Premetto una cosa ragazzi Chiedo scusa se questo episodio di Hercules Che è l'ultimo Sta uscendo solo oggi Ma purtroppo non ho avuto tempo Scusate se è uscito in ritardo Però purtroppo Sia domenica che lunedì non ho avuto tempo Perché domenica vabbè Io sapete come non carico video La domenica è lunedì Era ferragosto E quindi proprio il tempo per registrare Non l'ho avuto E ne di caricare Comunque spero che quest'ultimo episodio di Hercules vi piaccia E poi preparatevi per la prossima serie E salve a tutti Let's player Il mio nome è Anfergamer85 E oggi siamo tornati su Hercules Per l'episodio finale Oggi raga affronteremo gli ultimi due livelli Preparatevi Che saranno Qualcosa di assurdo Questi ultimi due livelli Mi sa Che dopo questo dovrebbe esserci lo scontro finale Dovrebbe esserci E già questo penso sarà difficilissimo Come abbiamo potuto vedere L'ultimo livello è stato un casino Ma questo non sarà da me Non ne so sicuro Hercules si è allenato tanto Per arrivare fin qui Siamo bene Non vi dico finora raga Perché io l'altra volta Non ho neanche salvato lo stato Non l'avevo Mi sono dovuto rifare i livelli da zero Quante volte ho dovuto riavviare L'emulatore Per via Che mi dava la password Perché Sapete com'è Quando Mi dà la password I comandi Smettono di rispondermi Comandi Avevano smesso di rispondermi E ora devo stare zitto Ok Questo diciamo raga Vi ricordate Era la intro iniziale Decisamente fra 18 anni I pianeti si allineeranno Senza affanni Ai ai Invece Il tempo per agirne avrai a Iosa Sguinzaglia i titani La banda tua mostruosa Bene bene Poi Zeus Un disifiero Finalmente cadrà E a te Ade Il potere Andrà Sì Ad il regno Un piccolo monito Gingia infine Prego Se Ercole combatte Per te Alla fine Alla fine Abbiamo visto prima Ercole l'ha sconfitto Beh Allora grazie di tutto Ercole E' stato un Ah ho capito Quindi è una clip Diciamo Di tutti i filmati Parla Erc Parla Erc Dobbiamo svolgere un comp... Ricordi Vabbè E' una clip di un po' dei filmati Di cui ho affrontato Di come ho affrontato il gioco Si parlava di disastri Ercole Grazie a di te Cosa c'è? Fuori città Due bambini Stavano giocando nella gola C'è stata una frana Una terribile frana Sono intrappolati Bambini Intrappolati Phil E' fantastico La notizia ti ha sconvolto Vero? No io non capisci Io sopra spaventosamente Di vertigini Vabbè Poi Qui quando Avevamo sconfitto E' stato un gesto Piuttosto eroico Ce l'hai fatta ragazzo Ce l'hai fatta E' stata una vittoria Schiacciante Lui si è incazzato Diciamo questo è un riassunto Di quello che abbiamo combinato Per tutto il gioco Chi l'avrebbe detto? E' questo il finale Non ce n'è Per nessuno ormai Sì tutta la Grecia È il più esaltante Degli eroi E il cuore E sa come si fa Ad affascinare Tutta quanta la città Ieri era zero 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 Oggi un guerriero E' il più fiero E chi l'avrebbe pensato mai Oggi è il più grande Che si ha testito mai Ieri era zero Ed oggi è Quello che sei pazza Senti Uh hu hu ha Lei non costa più Le pretendenti Personen Solo Mi Che e lui lo sa Quanti torni ha Son troppi da contare E pian che i ricchi piangono E se'amquilli lui non la fa Come va Nammentre me la fa Ora Che lui non balla E che la pola l'amore avrei voluto farvi vedere il finale per calore però stiamo facendo la password 0 0 0 oggi è più forte più 0 0 e non ho sempre una marcia in più e ieri da 0 oggi è un guerriero oggi è più grande ragazzi prendiamo balliamo e torniamo a casa felici e contenti che ne dici che rimbambito vado facciamo uno ecco a te piacciono i patti prendimi al posto di me oh il figlio del mio odiato rivale intrapolato per sempre nel fiume della morte conto 1 dove è la fregatura 2 va bene va bene va bene va bene va bene tirala fuori qui lei va tu resti che mega finale ragazzi che mega finale ragazzi perchè questo film non l'avevo ancora visto io bellissimo Hercules ormai è vero oh si fiori per tutti ottimo lavoro figlio mio ce l'hai fatta sei un vero eroe perchè un vero eroe non si misura dalla forza dei suoi muscoli ma da quella del suo cuore ebbene ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo gioco veramente bellissimo molto incazzoso perchè ho bestemmia da non vi dico quanto su sto titolo però dai vi ricordo che la prossima serie partirà a breve quest'ultimo episodio raga uscirà stasera perchè da poco ho caricato il penultimo ho caricato quest'ultimo episodio uscirà stasera e a pomeriggio dovrebbe uscire un vlog proprio particolare non vi sto a dire cos'è lo vedrete oggi pomeriggio se lo farò se mi ricorderò di registrarlo però per il resto ragazzi vi ricordo che trovate in descrizione le mie pagine di facebook di facebook e instagram io vi saluto e ci rivediamo alla prossima serie che